ehi ragazzi ciao a tutti la ricca bentornati qua su minecraft siamo qui anche oggi in compagnia di lupettina che intanto penso vuole rompersi le gambine non lo so io perché fa sta facendo parkour comunque allora rieccoci intanto abbiamo dei ragnetti fuori casa schifosi via ragnetto non mi piace avere la fuligine fuori casa e poi sembra una casa di una vecchietta giusto direi e beh ci sta lupetta dal fronte è dunque ragazzi allora stiamo andando avanti con i maialini ci abbiamo due maialini ancora da spostare mi dicevi o sbaglio intanto hai rimosso una torcia da allora che andiamo a rimuovere i maialini e e poi ci abbiamo qualcos'altro da fare intanto quello ecco vai 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 brucia brucia ci abbiamo anche qualcos'altro da fare allora praticamente vorremmo allargare o meglio vogliamo insomma sistemare la situazione del tavolo dell'incantamento perché ancora mancano delle librerie vogliamo fare questo e poi vogliamo sotto casa allargare la zona delle casse perché piccola allora quindi cominciamo a spostare stupo ceddu viene qua pucceddu pucceddu così li stiamo un po a far riprodurre pian pianino avanti pucceddu veneca veneca ok vuoi entrare pure tu lupè ti trovi bene no no ma si può mai mettere lupetta insieme ai pucceddu ovviamente no lupetta va insieme ai lupi allora perché si chiama lupetta effettivamente lupetta qui dentro se li pappa allora spingilo da dietro lupè a mutlu d'ocu in modo meno sozzo spingilo dal sederico allora però lupè se non gli diamo da mangiare questi non si riproducono quindi da venire fatate perché patate mangiano questi per il tutto davvero crude si non mi ricordavo mica questa cosa io ma che si riproducono con le patate evidentemente non li ho mai fatti riprodurre dalla 1.3 gli hanno fatti che si può appunto ma mi sembrava strano questa cosa ma ricordo proprio che questi con le patate vabbè vediamo un po come la situazione quanto miele ci stanno anche un po di potato qua dentro vabbè famo così lupè io vado a farli riprodurre e tu intanto raccogli e risemina che io già abbiamo il miele ora poi vediamo che ci si può fa intanto arriva un altro tizio bruciacchiante qua un altro golem che mi darà tanto altro ferro ne abbiamo in abbondanza alla famo riprodurre i pucetti odio quando si blocca il mouse c'è però in città che andate non si avvicinano e appena vedono che apre il portellone qua il portello cacchio subito pare che hanno visto oro avanti ma non caggia a me ci hanno dato sotto veramente ma già siamo ricchi di figli allora le zone su tutte piene perfetto va benissimo quindi abbiamo la nostra bella piccola farm di maialini qui mi avete detto che ci potrei mettere le botole effettivamente le botole ci stanno meglio sì sicuramente ci stanno meglio allora comunque sia ripeto dobbiamo quindi allargare meglio la zona del tavolo dell'incantamento abbiamo deciso di spostarlo perché siccome dobbiamo mettere più librerie e qua viene fuori una cosa un po bruttina quindi abbiamo deciso di spostarlo e lo vorremmo mettere qua dietro teoricamente a meno che non c'è qualcosa ma non lo so penso di no qua dietro dovrebbe andar bene anche perché boh sinceramente sì beh insomma possiamo metterlo un po dove vogliamo no ma penso che lì può essere carino dunque misera questo questo sono tre non c'è bastano birch va bene lo pigliamo anche perché mi servono per creare un altro anzi facciamone due di piccone visto che vanno via come il pane comunque sì a proposito di fatti il discorso è quello vogliamo potenziare il tavolo di incantamento proprio perché vorrei tanto creare un piccone in diamante con ripristino perché sennò qua ogni volta e bisogna sempre proprio procurarsi un piccone nuovo piccone nuovo è veramente una scocciatura quindi l'idea è questa di riuscire a farsi insomma qualcosa di decente non so come parlo ma avete capito e poi sotto e poi sotto c'è ancora da allargare perché praticamente più avanti vorrei mettere anche una piccola zona in cui facciamo la cobblestone perché ogni volta un problema quindi una specie di farm di cobblestone allora questi due questi li mettiamo così così quando vogliamo chiudere chiudiamo quando vogliamo aprire apriamo è una un'idea comunque carina apriamo apriamo e dovrei metterlo credo qua dunque andiamo a dar una mano alla lupetta così riusciamo a sposta sto coso a proposito di spostare comincio già a prendere le librerie giusto devo fare altre librerie in tutto ne servono 15 in tutto servono 15 librerie per avere il potenziamento massimo dunque hai fatto la stanzina ok un attimino perché a me servono ancora invece un bel po di librerie quindi ne ho 9 me ne mancano 6 quindi dovrei far fuori un po di di mucche perché devo fare i livelli produrre prima a quelle ovvio ok dunque a sto punto mi serve credo del grano però voglio vedere allora dove che ho messo le canne da zucchero vabbè la carta qui c'è ma mi serve la canna da zucchero qui ce n'è un pochino ok allora tavolo da incantamento quindi questo è il centro allora dobbiamo mettere le librerie una qua 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 ok giusto e mancano le altre librerie comunque vediamo un po vabbè l'abbellimento ci penso non è tanto complicato cioè da sistemare il tetto e il pavimento e che bisogna fatta il sangue dunque ne abbiamo 69 12 13 mancano ancora Xavier Allora, mucca, pazza Una, due, tre Quattro, cinque, sei, sette Otto, nove, dieci Undici Vediamo se ce n'è ancora qualcuna Dodici Mi sembra che mo Allora, avvicinatevi qua che ci vedo meglio Mi sembra che Ok Ok, ok, ok Abbiamo fatto figlio a sufficienza Molto bene Vediamo se recupero un po' di pelle Allora, vediamo un po' Solo una, mannaggia Di avere fortuna nella fase Ok, vediamo Sei, ci abbastano, ci abbastano Allora, ho fatto una libreria in più Giusto perché non mi piace vedere le cose dispari Quindi abbiamo teoricamente potenziato al massimo Qua dentro questo tavolo da incantamento Sai che sto pavimento è bello appunto Sì, sì, ci sta bene Bisogna da... No, al terzo non lo mettere al terzo Io non sto mettendo niente Qui c'è Ah Che è? Al terzo blocco Non ci metterà niente Io niente ci devo mettere Niente ci devo mettere È finito qua E basta È potenziato al massimo Allora Quindi mancano due No, no, è normale È normale, Lupe È normale Perché di più non ne servono Quindi va bene così Non ne servono di più librerie Queste sono sufficienti per avere il massimo Allora, teoricamente penso che Sopra qualche diamante ancora c'è Vediamo quindi se possiamo fare Sì, possiamo fare ancora un... Possiamo ancora fare qualcosa, insomma Un piccone in diamante Possiamo ancora farlo Dunque, mi serve questo e questo Abbiamo un bel piccone in diamante Vediamo un po' Io non so come si chiama Morripristino Vediamo Un breaking Non c'entra niente Fortuna e efficienza Non è questo che serve a noi, no? Un breaking Indistruttibilità, no? Però non si può quindi cambiare Bisogna tipo smontarlo Rimontarlo Per fargli cambiare quello che fa Tipo se io lo tolgo e lo rimetto Cambia 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 il secondo del giorno Ah, il secondo del giorno? Sperve Ok, allora ci riproviamo il giorno successivo Allora, comunque A questo punto stavamo a dire Che qua dietro è da allargare Perché sto sistema va un po' allungato Perché abbiamo poche casse Quindi Bisogna scavare un botto Un botto, un botto, un botto Perché abbiamo bisogno di più casse? Perché naturalmente Abbiamo molti più Come dire Tipo c'è la carta Insomma abbiamo bisogno di smistare meglio le cose Tipo la carne del pollo Dovrei metterla in una cassa Ok ma penso che per ora può bastare Già di spazio ce n'è qui Ah, non è che dobbiamo ad acca su qua Mi c'è buco 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 Già di spazio ce n'è qui Oppure aspetta Oppure aspetta Oppure tipo facciamo che Andiamo un po' più in qua E poi giriamo di lato Può essere un'idea Facciamo una specie di Una specie di ferro di cavallo Nel tempo Giriamo attorno Facciamo così per ora Non lo so Dobbiamo fare altre casse Guarda mettila qua per ora In queste casse qua per ora Per ora svuotiamo qua dentro E poi vediamo Ok allora le casse sono diciamo vuote Dobbiamo spostarle nel tempo Certo chiaramente arriva roba comunque Vabbè Allora le dobbiamo togliere da qua Questi hopper Perché Andiamo a allontanarci Che cosa? Ah c'è Sì Ok Vabbè poi questo lo smonto io Dunque Noi praticamente Diciamo che ci dobbiamo per ora Un pochino Allontanare Quindi non lo so Arriviamo più o meno Che ne so Fino a qua Una roba simile Quindi mettiamo sti hopper Così Tranne questo Così In questo modo E ci allunghiamo ancora un po' Dopodiché Faceva girava Credo proprio che girava Poi no Quindi Non so Più o meno Arriviamo fino a qua Vediamo Bene Arriviamo fino a qua E qua sotto Ora ci mettiamo le casse Quelle che ci stavano prima Così Diciamo che Abbiamo più spazio qua Per mettere altre casse Ah già vero Ma me lo so Dimenticato Ragazzi Ce ne ho Di legna L'ho dimenticata È vero L'ho pure vista prima In una cassa Vero Che l'avevamo già fatta La volta scorsa Un po' di legna Vabbè Un po' Comunque L'ho presa E un altro po' Ce l'abbiamo Un bel po' Ce l'abbiamo Meglio così Mettiamo qualche alberello Quella Che è un po' Troppo spoglio Sto posto Allora Difatti Ricordavo Che avevo Me lo so Ricordato Un po' Tardi E qui Ce sta già Un po' Di legna E poi Ce l'avevo pure Qua un altro po' Che l'ho trovata Prima in una cassa Va bene Allora Facciamo Un bel po' Di casse Facciamo tanti hopper Ne abbiamo 35 Facciamo altre casse Naturalmente Parecchie Ok Tante tramoggi E tante casse Allora Praticamente Dunque Vabbè Questa Allora Questa per la redstone È sprecata Meglio metterci altro Anche questa per l'oro È sprecata Piuttosto Facciamo una cosa Un po' Diversa Allora Ci mettiamo Ok Ci mettiamo Dunque L'oro Magari qua E Il problema È che Non posso mettere Un'altra cassa Come a questa Vicina Ah sì Vero Basta tenere premuto Shift Ok Quindi praticamente Qui ci metto una cosa Qui ce ne metto un'altra Qui ci mettiamo oro Qui ci mettiamo redstone Per dire Così è sprecato Ma di verità Non serve neanche Non si riempie mai È molto meglio Guarda Così Riusciamo ad avere Molto Cioè è inutile Per il ferro va bene Ne abbiamo un botto Ma voglio dire Neanche vale la pena Di aver dato No veramente mi piaceva Perché volevo dividere Le casse doppie Da quelle Mi piace l'idea Di separare Quelle doppie Da quelle singole Quindi Mi stava bene così Ok Abbiamo quindi Un botto di casse Già ora Queste vanno bene E Però un attimino Dunque Le casse Quelle Dunque Vanno messe Ci metto quasi quasi Com'è così No aspetta 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 Dunque Facciamo così Lì Lì va bene Allora Togliamo questi Che qui non servono più Togliamo questo Dunque Dovrei andare Fino a Un attimo Mi serve questo Messo qua Questi messi qua E mo Tecnicamente Ok Se c'ho azzecco Teoricamente In sta cassa Dovebbe arrivare qualcosa Ah no Vero Prima arriva qua Difatti Prima arriva qua Perché ancora A questa Noi abbiamo insegnato Niente Ok Sì Dunque Per ora Poi praticamente In futuro Vorrei Girare da questo lato Con le casse In futuro Gireremo Faremo un giro Qui attorno Per ora va bene così Dunque Quindi Molto semplicemente Fiamo così Bene Ora però Bisogna creare Il sistema Che stiamo Utilizzando qua Ovviamente Quindi mi servono Comparatori E torcia redstone E qua sotto Come è fatto Ok No perché ovviamente Da un po' Quindi comparatore Ripetitore E una torcia redstone E due di Ok Allora Non è affatto Difficile Da fare No Ma Allora Sto spaccando qua Perché devo mettere Delle torce redstone E penso che Da qui È l'unico modo Che ho Per arrivarci Ok Ho avuto il pavimento Comunque da mettere Quindi Sì Perfetto Quindi Qui sopra Adesso Noi Andiamo A Tappare Così Qui pure Poi Ci vuole La redstone Messa Così Poi Qua sopra E qui Ci mettiamo Invece I comparatori Anche se So Pochi Qui Dobbiamo Allargare Perché se no Non posso saltare Allora Comparatore 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 Ancora due comparatori Ci vogliono Andiamo a vedere Se abbiamo quindi Della redstone Sopra casa Per Poter creare Qualc'altro comparatore Quattro cosette Dobbiamo andare Insomma in miniera Sì no Però vabbè Sì c'è Per fortuna Un po' c'è Allora Uno qua Uno qua Perfetto Adesso devo solo Creare 20 40 60 80 100 120 Devo creare 120 Scodelle Un bel po' Direi no Direi proprio Un gran bel po' Di Scodelle Mi sa che ne ho fatte pure Più di 120 Ma non importa Perché tanto Quando Tanto poi Quando allargerò Il sistema Mi serviranno Le altre Quindi Va benissimo Allora Sta roba qua Non serve Anfico secco Noi dobbiamo Mettere La bellezza Di 20 Scodelle Messe a 5 A 5 A 5 A 5 Ora Tutto quello Che finisce Qua Insomma Verrà Come dire Insomma Io voglio che lì Ci deve finire Le piume Le piume Diciamo 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 che qua Ci voglio Le piume Ok Quindi qui Ci vanno A finire Solo le piume Diciamo che Voglio quello Per il cibo Diciamo che Voglio Le galline No Che le galline Fanno La carne Quindi io ci voglio Mettere la carne In questa cassa Qui ci vanno Le piume Ecco Qui c'è della carne E cucinata Il problema è che Di solito Questi non danno Carne cucinata Almeno credo O sbaglio Almeno all'inizio Non me la dava Cucinata la carne Ma com'è che È tutta cucinata A quanto pare Ma me la sta Da cucinata E allora Mettiamola qua La carne Boh Se è così Vuol dire Che mo È così Quindi la carne La metto qua Ora vedete Che scende Ma ne rimarranno Due Oh 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 Che cacchio succede Perché sto problema Che cosa Ah forse Forse non va bene Messi così E poi io mi ricordo Che una volta Li facevo così Non mi dava problemi Frano Vuol dire Che allora ho sbagliato Sì Vuol dire Che allora ho sbagliato Pensavo che Potevo metterli Uno accanto all'altro Senza problemi E invece Mi sa tanto Che Non si può fa A quanto pare No A quanto pare Uno accanto all'altro Non va bene Accidente Allora raga Quindi a questo punto Direi proprio Che Non abbiamo scelta Credo che C'è appunto Il problema Che Se li metto Vicini A quanto pare Eppure Io non ricordo bene Ne ricordo che In una Nell'altra Vanilla Credo che li mettevo Uno accanto all'altro No forse Sto ricordando male Allora Intanto forse Lupetta è caduta Crasciata Non lo so Intanto Dobbiamo quindi Separare Questi qua Allora Quindi ero rimasto Qua Dobbiamo rimettere Dentro Quelli che Mancano Quindi Così E poi No Non era proprio Niente così Era così E ci avevo messo Le piume Quindi riproviamo Con le piume E mo non dovrebbe Succedere nulla di male A questo punto Andiamo qua E ci mettiamo Queste Più il cibo Mo non dovrebbe Dare problemi E di fatti Mo problemi Non ne da più Quindi finché Stavano vicino Se collegava La redson Con questa redson E mi dava problemi A meno che Non hanno messo Un tipo di redson Che non si collega Con l'altra In quel caso Se le due redson Non si collegassero Il problema Non c'era Non c'era Questo era il problema Però purtroppo Si collegano Quindi mi rimane Questo E qua Mo Noi Ci andiamo a mettere Ehm Ci possiamo mettere Tipo Come si chiama Dov'è Questa Le canne da zucchero Le potremmo mettere Qua dentro Le canne da zucchero E quell'altre due Le dedichiamo A qualcos'altro Vediamo un po' Dunque Ehm Sono troppo Troppo Troppi 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 Ho esagerato Allora Me ne servono Così Questo Lo metto qua E le canne da zucchero Adesso vanno a finire Qua dentro E sta bene Invece In queste due Casse più Grandi Queste qui Che ho dedicato A oro Eccetera Eccetera Le potrei dedicare A qualcos'altro Tipo La pietra Perché dobbiamo fare Poi un generatore Di cobblestone Quindi Facciamo che qua dentro Invece ci mettiamo La pietra Sostituendo L'oro Con la pietra E qua Invece Della redstone Ci possiamo mettere Altro Vediamo cosa Allora Dobbiamo andare a parlare Con un tizio Qua sopra Che pian pianino Lo sto addestrando Anche se Dovrei addestrare Pure altri Villager E quasi quasi Mi converrebbe A sto punto Farci una scala Qua Per non fare sempre Sali e scendi Allora Qui Qui tappiamo Così Questo è un attimo Mese calma Ok Eccolo qua Continuiamo Ad allenarlo E' salito Credo Di livello Credo No No Ancora no Vediamo Oh Ah ho sbagliato Come cacchio E' qua La storia Così Che diamine Iepia Uh E' migliorato Bene Mappa Dell'oceano Ci da Magari La pigliamo Un'altra volta Per ora Voglio continuare A farlo salire Se vabbè Sale poco Di livello Però vabbè Alla fine Dato che La farm Di cane Da zucchero L'ho fatta Apposta Per allenarlo Quindi Sì ma Sicuramente Converrà Farlo salire Di livello In modo alternativo Addirittura Vuole pannelli Di vetro Questo Vabbè Insomma Bisognerà Istruirlo Sempre di più Raga Vediamo Poi per Sta mappa Dell'oceano Vuole pure Il compasso Vediamo Più avanti Non penso Che Cambia idea No Cos'è successo Qua Perché me l'ho Dattagliato Mostro 13 Vabbè Per ora Ragazzi Va bene Così Per ora Va bene Così Almeno L'ho fatto Salire Ancora Un po' meno Di un livello Ora poi Vediamo più avanti Certo che Con le canne Da zucchero Ci vorrà una vita Per farlo salire Di livello A questo punto A quanto pare Ma voi Se avete qualche Suggerimento Da darci Se avete qualche Ebbè Ovvio Scrivete Commentate Raga Va bene Allora Per il momento Credo che Concludiamo qua Perché il tempo Vola E Va bene Così E tardino E va bene Così Almeno ci siamo portati Un po' avanti Ma qua sotto Rimane solo Da mettere il pavimento Vabbè Questa è una cosa Che mo lupetta Pian piano fa Pian pianino Ma qua sistemiamo Ragazzi Quindi Speriamo che il tempo Vi sia piaciuto Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione In su Ci becchiamo presto Ciao alla prossima Ciao Ciao a Macem Ciao a tutti Ciao a tutti